Gesù come un romanzo è la storia di un giovane anticonformista che non si lascia confondere che sfide di vieti e che rifiuta la violenza. Qualcosa di misterioso è successo. Pietro non sa più cosa credere e mentre tende ad incontrare gli altri dieci amici per l'ultima volta ripercorre momenti che ha vissuto seguendo per le strade della Palestina quel giovane diverso da tutti che agiva e parlava in modo straordinario. Ma perché leggere un romanzo di una storia che ormai tutti conoscono come va a finire. Perché oltre alla storia di Gesù è un romanzo universale va letto per il valore intrinseco, va letto per sapere come l'autrice lo ha interpretato e va letto anche per il piacere di leggere la scrittura dell'autrice e leggerlo anche per seguire i percorsi di Camelo Zampa l'editore e leggerlo per leggerlo. Non mi rispose e si avvicinò la nostra barca. Mio fratello mi fece un gesto divertito. Proviamo. Gesù si sedette a poppa e mentre ci allontanavamo dalla riva lo osservavo. Perché era solo? Che ci faceva qui? Perché si era rivolto a me come se mi conoscesse? Qualcosa mi stava travolgendo. Sembrava paura ma non lo era.